benvenuti al corso di fotografia digitale modulo 1 unità 1 nel corso di queste lezioni introduttive impareremo che cos'è e come funziona la tecnica fotografica in generale e le caratteristiche specifiche dell'attuale tecnologia digitale come funziona una fotocamera digitale quali sono le principali differenze tra i diversi modelli attualmente in commercio come ottenere degli ottimi scatti quale che sia la vostra attrezzatura a salvare conservare archiviare gestire i file prodotti in fase di scatto a conoscere le caratteristiche specifiche delle immagini digitale conoscenza necessaria per una loro futura modifica e manipolazione in fase di post produzione a stampare ottenendo un risultato ottimale dal punto di vista della qualità tutte queste tematiche costituiscono ciò che nello specifico della fotografia digitale viene chiamato flusso di lavoro ossia tutte quelle conoscenze senza le quali non è possibile intraprendere quel processo che va dallo scatto allo scarto il primo vantaggio della tecnologia fotografica digitale è senz'altro l'immediata disponibilità delle immagini scattate contrariamente alla fotografia analogica l'utilizzo delle moderne fotocamere digitali infatti consente l'immediata visualizzazione delle foto sia tramite il display lcd in dotazione alle fotocamere stesse sia tramite display esterni collegando la fotocamera attraverso appositi cami le foto digitali difatti vengono prodotte dalle fotocamere generalmente in un formato specifico compresso ed universale denominato file jpeg leggibile su tutti i supporti le immagini digitali vengono memorizzate su appositi supporti denominati memory card inseriti nella fotocamera pertanto le immagini appena scattate possono essere anche subito trasferite su altri dispositivi digitali tramite appositi capi usb o talora addirittura tramite wifi quindi subito dopo il trasferimento ad esempio su pc possiamo immediatamente visionare archiviare inviare condividere e pubblicare le nostre immagini oppure correggerle o modificare al nostro piacimento tramite appositi programmi dei quali ci occuperemo in seguito possiamo infine ovviamente anche stamparle su diverse tipologie e formati di carta senza il necessario ausilio di laboratori fotografici professionali vediamo quali sono le differenze fondamentali tra la fotografia digitale e quella analogica ovviamente non è più necessario l'uso della pellicola con i relativi costi di acquisto sviluppo e stampa e relativi tempi di attesa è possibile visionare ed anche cancellare le immagini appena scattate i limiti di memoria delle memory card sono molto più ampi rispetto a quelli della pellicola le memory card stesse sono supporti di memorizzazione molto più stabili e durevoli dal punto di vista del salvataggio delle immagini la tecnologia fotografica digitale si basa su tre passaggi fondamentali acquisizione elaborazione e riproduzione delle immagini è vero che i moderni software di fotoritocco ci permettono una rapida modifica degli eventuali errori commessi in fase di scatto permettendoci di recuperare anche immagini molto difettose e talvolta addirittura tramite funzionalità implementate nella fotocamera stessa tuttavia è bene ricordare che è ovviamente possibile ed anzi sarebbe sicuramente meglio realizzare delle buone immagini senza dover compiere ulteriori step ma questo è possibile a patto di conoscere adeguatamente la tecnica fotografica cosa che ci consentirà anche di non perdere ulteriore tempo nella correzione di quegli errori che possono essere tranquillamente evitati già in fase di scatto la fotocamera digitale rappresenta allo stesso tempo uno strumento di input e di output attraverso uno specifico sensore le immagini vengono catturate e immagazzinate su un dispositivo di memoria ma sarà anche possibile visualizzarle immediatamente attraverso il display incorporato nella fotocamera inoltre ogni fotocamera digitale attualmente in commercio è dotata di software proprietari e specifici per la gestione di base ed il trasferimento di file di immagini verso il computer o altri dispositivi digitali tutte le immagini in formato digitale possono essere immagazzinate e conservate all'interno di un computer e soprattutto una volta trasferite dalla memory card al computer modificate ed elaborate attraverso specifici programmi tra i software di editing delle immagini più famose e utilizzate attualmente troviamo senz'altro adobe photoshop la cui ultima versione è la cs6 lightroom 5 ed aperture 3 quest'ultimo però solo per gli utenti mac ma esistono anche software gratuiti come gym photo pro magic photo photo mix photo scape che permettono di correggere e migliorare molto velocemente le proprie foto attraverso questi software a seconda del loro grado di specializzazione e precisione sarà possibile arrivare a trasformare anche completamente le immagini scattate alcune delle funzionalità più comunemente usate nel campo della fotografia digitale sono migliorare la nitidezza regolare la luminosità ed il contrasto di una foto cambiare le dimensioni ed il formato originale raddrizzare o ruotare una foto migliorando nell'inquadratura ritagliare un'immagine eliminando le eventuali parti squerte eliminare cancellandoli eventuali imperfezioni ed elementi indesiderati trasformare una foto usando dei filtri o degli effetti particolari rendendola più o meno originale una volta scattata ed eventualmente modificata una foto con il software scelto avremo la possibilità di stampare l'immagine autonomamente con una stampante a colori su qualsiasi tipo e formato di carta supportato dalla stampante in uso in alternativa è sempre possibile portare a stampare le proprie foto ritoccate in un laboratorio fotografico specializzato inserire la foto all'interno di un altro file come ad esempio un file di testo utilizzare l'immagine all'interno di una pagina web spedire via mail la foto copiare, duplicare, spostare e archiviare le foto nel proprio computer o in alternativa memorizzarle su un supporto esterno come un cd, un dvd, un blu-ray utilizzare la foto caricandola su un dispositivo specifico di visualizzazione come ad esempio una cornice digitale utilizzare la foto su diversi supporti digitali come cellulari, smartphone, tablet, tv digitali in questo corso dedicato alla fotografia digitale come prima cosa è senz'altro necessario definire in cosa esattamente consistono le immagini digitali e in cosa si differenziano da quelle analogiche tuttavia prima di definire cosa effettivamente si intende per immagine digitale è opportuno definire chiaramente e con precisione il concetto di risoluzione un parametro che determina sia la qualità intrinseca di un'immagine digitale sia la qualità con cui questa tipologia di immagini può essere visualizzata su supporti digitali quali ad esempio i display dei computer, i tablet, gli smartphone o i moderni apparecchi televisivi con il termine di risoluzione utilizzato frequentemente nel campo della computer grafica e nel campo della fotografia digitale si intendono diversi elementi tutti importanti nell'ambito della gestione delle immagini digitali pertanto è opportuno operare subito una distinzione tra quella che è la risoluzione di un display e la risoluzione di un'immagine per risoluzione video o risoluzione di visualizzazione di uno schermo si intende il numero di pixel che possono essere rappresentati e visualizzati in entrambe le dimensioni di larghezza e di altezza di uno schermo digitale i valori di risoluzione di uno schermo digitale vengono pertanto indicati con la formula specifica larghezza per altezza i seguenti valori 1280x800 indicano ad esempio l'impostazione di una risoluzione di schermo che comporta la rappresentazione di 1280 pixel in larghezza e 800 pixel in altezza schermi o display lcd, tv al plasma e proiettori digitali visualizzano i pixel dell'immagine attraverso l'ausilio di una griglia fissa bidimensionale che utilizza e mostra semplicemente un dato numero di colonne e righe per la rappresentazione dei pixel a formare l'intera area di visualizzazione detto questo uno schermo con la risoluzione specificata ad esempio proprio 1280x800 sarà in grado di visualizzare delle immagini secondo questi parametri di griglia le immagini verranno rappresentate tramite 800 linee orizzontali con 1280 punti su ogni linea diverso è invece il concetto di densità di pixel la densità di pixel indica il numero di pixel presenti in una determinata area e non il numero totale di pixel ovviamente la densità di pixel di un monitor è strettamente legata alla dimensione fisica dello schermo espressa in pollici e dal numero totale di pixel nelle due dimensioni di visualizzazione orizzontale e verticale prendendo ad esempio il display di un portatile in formato 16 noni con misura pari a 15,4 pollici e con una risoluzione di 1280x800 pixel avrà un valore di pixel per pollice pari a circa 98 esistono risorse in rete facilmente accessibili per effettuare questo calcolo specifico in base allo schermo in uso senza necessariamente utilizzare una calcolatrice per impostare ed eseguire il calcolo diverso il discorso per quanto riguarda la risoluzione specifica delle immagini digitali che ora andremo ad introdurre le immagini digitali sono formate proprio dai cosiddetti pixel che visivamente non sono altro che quei piccoli quadrettini che i vari supporti digitali come computer e stampanti utilizzano per visualizzare le immagini sia sullo schermo del monitor sia in fase di stampa il pixel è pertanto la componente più piccola minima di una qualsiasi immagine digitale e viene considerato anche come vera e propria unità di misura quando si parla di risoluzione un computer tramite il relativo programma di visualizzazione o di elaborazione scelto riproduce sul proprio schermo singolarmente in una griglia di risoluzione formata proprio da un preciso numero di pixel le specifiche tecniche ossia le informazioni dei pixel originali come ad esempio il colore e la brillantezza è proprio su questi elementi che compongono le immagini su schermo che è possibile intervenire dal momento che ogni singolo pixel costituisce un'unità digitale di informazione appunto modificabile il processo di controllo della griglia dei pixel si chiama mappatura dei bit e le immagini digitali sono chiamate di conseguenza anche bitmap pertanto quando si parla di immagini bitmap si sta facendo riferimento ad un formato di rappresentazione digitale delle immagini su computer utilizzato nei sistemi operativi windows e mac la griglia dei pixel viene attivata nei programmi di elaborazione immagini solo a partire da un certo livello di ingrandimento ad esempio in photoshop al 600% la dimensione di una fotografia digitale può essere dunque definita attraverso la misura in pixel delle due dimensioni di larghezza ed altezza ed il numero totale di pixel contenuti in essa ad esempio se una qualsiasi immagine digitale misura 3000 pixel in orizzontale per 2000 pixel in verticale sarà sicuramente formata da 6 milioni di pixel totale pertanto per calcolare il numero di pixel complessivo di un'immagine basta moltiplicare i valori in pixel delle due dimensioni di larghezza ed altezza per quanto riguarda invece la risoluzione di un'immagine digitale ricordando che esse esprime la densità di pixel in relazione ad una determinata area o superficie espressa generalmente in pollici bisogna considerare la dimensione in cm dell'immagine stessa ove ovviamente ad una maggiore dimensione in cm corrisponderà una minore risoluzione a parità di quantità complessiva in pixel dell'immagine stessa ovvero sia se per semplificare prendiamo ancora una determinata immagine costituita da 6 milioni di pixel con i lati di larghezza ed altezza rispettivamente costituiti da 3000 x 2000 pixel avremo una risoluzione più alta oppure più bassa a seconda dell'ampiezza della superficie espressa indifferentemente in cm o in pollici sulla quale andremo a distribuire i 6 milioni di pixel totali in altre parole se ad esempio distribuiamo i 6 milioni di pixel su una superficie di circa 30 cm x 20 cm avremo una risoluzione o densità di pixel di 250 pixel per pollice che è da considerare un'ottima risoluzione ma se volessimo raddoppiare ad esempio la superficie sulla quale distribuire gli stessi 6 milioni di pixel portandola a 60 cm x 40 cm ecco che avremo un crollo della risoluzione a soli 127 pixel per pollice con ovvie conseguenze sulla qualità dell'immagine la qualità di un'immagine digitale è dunque strettamente legata sia al numero totale di pixel sia alla risoluzione scelta pertanto maggiore il numero di pixel totali più potrà essere alta la risoluzione della data immagine e viceversa quindi un'immagine con un alto numero di pixel totale con un'alta risoluzione presenterà una maggiore nitidezza ed una migliore definizione di conseguenza un'immagine con un maggior numero di pixel e quindi una maggiore risoluzione potrà essere ingrandita più volte prima di risultare sgranata prima che quindi i singoli pixel risultino evidenti prima di analizzare le modalità di funzionamento di una fotocamera digitale è bene introdurre subito una delle componenti hardware fondamentali ovvero il sensore comunque la struttura di base di una fotocamera digitale è simile a quella di una fotocamera analogica in entrambi i casi troviamo un obiettivo, un diaframma, un otturatore nel processo di scatto in entrambe le tecniche digitale e analogica le lenti che compongono l'obiettivo consentono innanzitutto di delimitare l'angolo di campo ripreso e poi mettono a fuoco il fascio luminoso che entra all'interno della fotocamera il diaframma invece regola il diametro di apertura del foro di passaggio della luce determinandone la quantità mentre l'otturatore regola infine il tempo di esposizione attraverso il sollevamento prima e l'abbassamento poi di una vera e propria tendina che permette prima ed impedisce poi il passaggio della luce in una determinata unità di tempo l'azione congiunta del diaframma e dell'otturatore determina la quantità di luce che entra nella fotocamera e colpisce il sensore nelle macchine digitali infatti la luce non viene più catturata su pellicola ma tramite un sensore ottico che trasforma il segnale analogico in digitale che pertanto rappresenta il cuore del funzionamento di una fotocamera il termine pixel nel campo della fotografia digitale non viene utilizzato solamente per indicare gli elementi base che compongono un'immagine digitale rappresentata su schermo lo stesso termine viene impiegato anche per indicare i cosiddetti foto elementi sensibili alla luce che costituiscono il sensore di una fotocamera digitale sulla superficie del microchip che rappresenta fisicamente il sensore troviamo una griglia composta da milioni di diodi fotosensibili costituiti da silicio meglio conosciuti come pixel che servono proprio a catturare singolarmente le diverse parti dell'immagine oggetto della nostra foto la qualità del sensore di una fotocamera dipende da alcuni fattori fondamentali le sue dimensioni fisiche, la grandezza e il numero dei pixel generalmente le fotocamere digitali di più largo consumo e quindi le più economiche hanno un sensore con una dimensione fisica di 6 x 8 mm le fotocamere digitali di tipo reflex di formato denominato APS-C attualmente tra le più diffuse hanno sensori che misurano al massimo 15 x 22 mm sono solo le fotocamere digitali cosiddette full frame ad essere dotate di un sensore di ben 24 x 36 mm esattamente la stessa dimensione della classica pellicola da 35 mm un pixel rappresenta la più piccola porzione dell'immagine che la fotocamera è in grado di catturare su una matrice rappresentata dal sensore i pixel dei sensori possono avere dimensioni diverse a seconda della fotocamera generalmente le loro dimensioni vanno da 1,6 micron ovvero millesimi di millimetro fino a raggiungere i 6-9 micron ed in alcuni casi dimensioni ancora maggiori la dimensione ottimale per i pixel di una fotocamera dovrebbe essere compresa fra i 6 e i 9 micron fotocamere digitali con sensori dotati di pixel più grandi di 9 micron possono causare problemi di aliasing durante la cattura delle immagini i sensori con pixel inferiori a 6 micron possono produrre foto meno nitide e con una gamma tonale inferiore la dimensione effettiva dei pixel del sensore dipende dalle misure fisiche del sensore della macchina ma anche dalla densità dei pixel maggiore è il numero di pixel di un dato sensore ottico maggiore sarà il numero di pixel corrispondenti di ogni immagine scattata con esso e quindi maggiore sarà la possibile risoluzione delle immagini ottenute pertanto la risoluzione di una fotocamera digitale misurata in megapixel dove un megapixel corrisponde a un milione di pixel costituisce sicuramente un fattore importante da considerare soprattutto quando si realizzano foto destinate alla stampa in grandi formati tuttavia è anche importante considerare che il numero di megapixel di una fotocamera non rappresenta per forza un indice di qualità determinante anche se concettualmente un numero maggiore di pixel comporta la possibilità di una risoluzione maggiore la resa risolutiva finale può essere comunque limitata ed anche molto dall'ottica utilizzata per catturare l'immagine se le lenti in uso hanno un potere risolutivo inferiore rispetto al sensore allora le proprie foto non miglioreranno affatto con l'aumento del numero di pixel anzi al contrario risulteranno molto meno nitide durante lo scatto di una foto con una fotocamera digitale una cellula fotoelettrica detta esposimetro calcola la quantità di luce che passa attraverso le lenti dell'obiettivo ed entra nella camera la stessa cellula in base al calcolo della luce in entrata determinerà il grado di apertura del diaframma e la velocità di otturazione in questo modo la macchina a seconda anche delle impostazioni del modello riesce ad ottenere una corretta esposizione quando l'otturatore si apre la luce raggiunge il sensore di immagini a questo punto ogni singolo pixel del sensore memorizza l'intensità della luce in entrata che va a colpirlo accumulando una carica elettrica la carica elettrica relativa ad ogni singolo pixel viene quindi elaborata e convertita in valori numerici secondo il linguaggio digitale del sistema binario il numero binario risultante dal calcolo verrà elaborato dal software della fotocamera trasformato in informazioni ed infine visualizzato sul display LCD sotto forma di immagine a questo punto la foto è stata memorizzata grazie grazie grazie